what the aaaah aaaah hakuna amatata ragazzi ben ritrovati dal vostro ciccio gamer 89 Siamo qui su Dragon Ball Z Burst League Ragazzi, allora, innanzitutto Grande intro, grande intro per questo gioco veramente fantastico Allora, voi vi state, forse vi state domandando Ma perché Ciccio non stai facendo più Dragon Ball Z, Battle of Z, 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 Z Sinceramente ragazzi, a me quel gioco non piaceva Mi avete detto Ciccio, si sincero Se il gioco non ti piace, diccelo Alcuni commenti l'ho visti Sapete che io sono sincerissimo con voi In qualsiasi cosa faccio Ho aspettato un pochino per valutare il gioco Sapete che comunque i giochi non vanno valutati di fretta Ma bensì vanno un po' giocati per vedere se poi andando più avanti il gioco ti prende Beh ragazzi, ho fatto 4-5 episodi dell'altro Dragon Ball Non mi piaceva, ma non mi piaceva Non per la grafica o per come era fatto Semplicemente il combattimento Quando facevo i combattimenti Non ero io che giocavo Cioè premevo X, Y e B Faceva tutto da solo Non era convolgente Quindi, secondo me, se volete puntare a un gioco di Dragon Ball Dovreste puntare su questo Perché questo io ci ho giocato parecchio Tanto tempo fa Questo qua è un gioco del 2008-2009 Non mi ricordo bene Comunque 2008-2009 E sinceramente se parliamo di visualizzazioni L'altro Dragon Ball me ne portava tanti In un giorno facevo 20.000 view Uno dice Sì, spai lo youtuber Lo youtuber servono le visualizzazioni Perché comunque ci si guadagna Ma non è quello Io vi ripeto A me non interessano i soldi Nel senso Perché uno mi ha detto Ciccio non di Non essere falso Non dire che non ti interessano i soldi In realtà è così I soldi a me non interessano Fino a un certo punto Io preferisco Prima lasciarvi un qualcosa dentro Farvi divertire Devo divertirmi anch'io Quando faccio i video Poi se ci stanno i soldi Tanto meglio Chi se ne frega Allora Innanzitutto Io vi ho sempre detto Che in un gioco Bisogna sempre Eeeh Mettere camera Sì 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 Ok Bisogna sempre Controllare l'audio Sempre Per esempio Mettiamo il giapponese Perché so che vi piace I giochi in giapponese Salvataggio del contenuto Così almeno Ci abbiamo anche la lingua Originale Perfetto Eeeh Secondo voi Io vorrei Allora L'altro gioco Vi dico che la serie è chiusa Ve lo dico Fatemi sapere che cosa ne pensate Vorrei Ma dato che comunque A tutti piace Dragon Ball C'è poco da fare Ci piace tantissimo Dragon Ball Che ne dite Facciamo partire una serie su questa La Rivo dei Saiyan Secondo me È bellissimo Io ve lo dico Secondo me Cioè secondo me Questo è un gran gran gioco Che ci abbiamo Normale Facile principiante No facciamo normale Per cortesia Qui io ci giocavo Con un mio amico E mio fratello Facevamo delle combo Allucinanti Teletrasporti Kamehameha Gesù Che poi secondo me Graficamente Questo è ancora È più bello Uh Goku Mamma mia Mamma mia Secondo me Come Non mi ricordo mai Come ci si combatte Non mi ricordo mai Uh Però vedete Questo c'è Nel senso Questo ci si fanno Uh le combo Le combo Vieni qua Uh aspetta Ho fatto qualcosa di incredibile Aspetta Ah aspetta Uh L'avevo preso Uh Mamma mia Vedete Qui per esempio È tipo Tekken Se io adesso premo Y Premuto giù Vedete Ah Non mi farei la game Che mi ha Boom Eh vabbè Vieni qua Ecco vieni qua Vieni qua Io mi ricordo Che c'era anche un modo Uh Per Uh C'era un modo Io mi ricordo Mi ricordo che Aspetta No Bastardo Ha fatto il Boom No Liscio Vieni qua Che ti spacco la faccia Dai raga Sinceramente È molto Molto più bello questo Però io Se non mi Aspetta Ci stanno le prese Questo sembra molto più Un Tekken Vieni Vieni qua Ti voglio prendere Uh 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 Vieni vieni Boom Signori Signori È molto Più Convolgente Ma io Non Mi Ricordo Mai Perché non Ho fatto il tutorial Giustamente Mmm Eci Eh Ehi Vieni qua Uh Bastardo Come ti faccio Le combo Quelle perfette Oh è quello Quello Teletrasporto Voglio fare Uh Energetica Figlio di puttana Uh vedete Ha fatto il Teletrasporto Io non mi ricordo Vieni qua Bastardo Muorici male Malissimo Non mi ricordo I tasti Ragazzi Qua ci stanno Anche Le mosse Finali Inizia la storia Eh Kunguro Uh È vero Questo qua È il punto dove Sì perché lui Adesso fa Il cannone Spirituale È il cannone Dell'anima Vabbè È un cazzo Goku Bella 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 Mi piace Mi piace Bello Mi piace Mi piace Troppo Sinceramente Preferisco portarvi Una serie Su questo gioco Sì vai Ho sbloccato un po' Da roba Se avete fatto caso Quindi io vi consiglio Molto di più questo Mi fate sapere Nei commenti Gentilmente Che cosa ne pensate Allora Questo qua è due La carta vincente Di piccolo Perfetto Facciamoci tutto noi È normale Si farei sempre normale Ok Perfetto E mi fate sapere Quale preferite Ma secondo me E ripeto Secondo me È meglio questo E aspetto Che bello faccio Saltare le palle Poi è molto più rapido Mamma mia Guardate che scene Che cucin Le cazzine Bello 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 Questo sì Con Dragon Ball Un'aura Incredibile Tra l'altro Se io faccio così Visualizza E l'enco comandi Che non c'è Nell'altro Quindi se io faccio Colpo dell'aura Bbbbb Cannone dell'anima speciale Sopra E B Ok Schiacciata Scatto Tutti Quindi se io faccio No Aspetta Aspetta Ok Ok Con calma Oh S'allunga Da quando piccolo S'allunga Non mi son perso qualcosa Oh Mamma mia Oh No Aspetta 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 Uh Mio dio piccolo Piccolo è di una cattiveria incredibile Vieni Qua Vieni qua Bastardo Basta Uh Eccolo 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 Uh Liscio Ho fatto un liscio Incredibile No Bastardo Bastardo Io non mi ricordo Poi Tiamo poi tanto Ah Oh Che succede Boom Pensa se te lo metto al culo Ah 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 Scusate Ma che sta Adopo di per forza Cioè Adopo di per forza E' un po' Era un po' Sconcia come cosa Un po' Vieni qua Vieni qua Ti spacco No Aia Mi devo imparare A A pararmi Ah Oh Agoso Cannone del Gesù Spezza Eh me le evitano Bastardo Vieni qua 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 Bella 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 No Uh Aspetta come cazzo Sarò da mi paro Che ho fatto Uh Mi Kaioken Strizzene Vieni 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 Non ti puoi parare Per sempre però Uh Vai Tanto non lo prendo Uh Lo sapevo io Che non lo prende Ah No 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 Picchialo 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 Uh Bam Vieni Uh Vieni qua Vieni 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 Oh Aia Uh Aio Aio È forte Boom Menomale che stiamo A difficoltà normale Penso se stavamo a quella Difficile Ehi Uh 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 No 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 Lo voglio far pure Quello tantissimo Mortacci di te Aia Vieni Qua Vieni qua Vieni qua Uh Cannone del Gesù E non lo prendo mai però Eh Eh che Cacchio Uh Vieni Ah Come i nabbi Come i nabbi Ah ma l'ha rimandata indietro Uh Vieni Spacco la faccia Ah si Moche praticamente Ci rifà vedere la scena di prima Guarda che già l'abbiamo vista Mo lui fa il cannone dell'anima speciale Piccolo Perché non l'aveva capita prima eh Ma mi fa se gli parte una scureccia Onda energetica Mentre sta così Bello Comunque mi sembra già da averla vista Non poterle Muttannazione Scommettete Pazzò Sembra che ho fatto io sto gioco Come se non lo sapevo A quanto sto Ah è vero perché adesso Eh posso vedere pure a quanto sto Perché adesso ho due schermi Lasciate fare Ho fatto una postazione incredibile Blocco supremo Va bene Perfetto Ragazzi io direi Che l'appuntamento di oggi Può finire qui Anche se stiamo All'incirca 11 minuti e 40 Qualcosa del genere Io vi aspetto nel prossimo episodio Mi raccomando Chi condivide Questo video Metterò in palio 5k per steam Cioè che significa Quando io vedrò che avete condiviso Su google più Su facebook E dalla mia pagina di facebook Perché mi apparirà lì Anche lì Chi condividerà Chi commenta Questo episodio Chi lascia mi piace A questo episodio Farò un'estrazione La sera stessa Questa sera Alle 21 e 30 E a mezzanotte Dirò Chi sono i vincitori 5k per steam Ragazzi Policione in su Commentate Condividete Alla prossima Appuntamento Con i boss Di Ciochimano89 Ciao